Musica Basta, non ne posso più di stare fermo in casa Ho bisogno di muovermi, muovermi, muovermi I viaggi di Giovannino per di giorno Il paese del nì di Gianni Rodario Giovannino per di giorno, viaggiando da qui a lì, capitò per combinazione nel paese del nì In quel paese la gente era timido un bel po' e non diceva mai di chiaro né di sì né di no Volete il pesce? Nì Volete la carne? Nì A tutte le domande rispondevano così Maccherata di indecisi, Giovannino sospirò Volete la pace? Nì Volete la guerra? Nì Dittemi perlomeno se vi piace stare qui E quelli abbassano gli occhi e sospirano Nì Giovannino per di giorno, ben presto si stancò A questo insulso paese, io dico tre volte no, no, no Cosa facciamo oggi? Oggi realizzeremo un gioco motorio Quindi la preparazione sarà molto veloce perché il divertimento sarà tutto nel giocare Cosa occorrono? Pochissime cose facilmente recuperabili Del cartoncino, io in questo caso utilizzerò dei vecchi contenitori di pitte e dei giornali Il resto sarà solo fantasia Ecco i materiali che occorrono Colla stick, pennarello nero, un paio di forbici, i fogli di un quotidiano e il cartone di un contenitore per la pizza In realtà è sufficiente qualsiasi supporto cartaceo, un cartoncino, un foglio di carta semplice Ma andiamo a vedere come procedere Prendiamo un foglio di giornale e lo pieghiamo per quattro volte Il foglio di giornale era già doppio, quindi di fatto ho ottenuto otto strati Prendo la mia mano sinistra, prendo il pennarello e la ricalco Prendo un altro foglio doppio, lo piego in quattro parti in modo da ottenere otto strati Prendo la mia mano destra questa volta e ricalco anche la destra Facciamo la stessa cosa anche con i piedi Piede sinistro, sempre il foglio doppio piegato in quattro parti E poi anche il piede destro, adesso taglio tutto Alla fine avremo ottenuto otto mani destre, otto mani sinistre, otto piedi destri e otto piedi sinistri Adesso prendiamo il cartoncino della pizza Terremo solo le parti più grandi, quindi taglieremo i due quadrati Lo ripuliremo dalle linguette e a sua volta ogni quadrato lo divideremo in quattro parti Alla fine del taglio avremo ottenuto, per ogni contenitore di pizza, due quadrati grandi E un po' di linguette di scarto Teniamo anche queste perché le utilizzeremo in un altro tutorial, in laboratorio, per realizzare dei segnalibro Ora ci concentriamo su questa parte Dividiamo questi quadrati in quattro parti E poi andiamo a tagliare Ora non dobbiamo fare altro che incollare le sagome sui nostri cartoncini con la colla Ora non ci resta che andare a giocare Come si gioca? Dobbiamo stendere i cartoncini per terra a file di tre Nell'ordine che vogliamo L'importante è non mettere carte doppie all'interno della stessa riga Quindi in ogni riga ci può essere solo una mano sinistra o una mano destra O un piede sinistro o un piede destro E non ci possono essere più di tre cartoncini per fila Quindi ho una mano o un piede rimarranno sempre fuori da questa sequenza Continuo ad avanzare mettendo a file di tre tutte le mie carte Stando sempre attento, come dicevo, a non ripetere la stessa carta all'interno della stessa riga Ma non vedo l'ora di giocare, quindi andremo subito a posizionare le carte per terra Ma non vedo l'ora di giocare Ma non vedo l'ora di giocare